Oggi celebriamo la solennità del Corpus Domini e la liturgia ci presenta il brano del Vangelo di Marco, dove ci viene narrata la preparazione dell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia, questo gesto di Gesù che spezza il pane. Potremmo dire che tutta la scrittura è un commento a questo gesto, il più grande gesto che possiamo accogliere, quello di un Dio che si dona a noi. E Marco sottolinea l'importanza della preparazione di questa cena. Siamo chiamati a prepararci ad accogliere questo dono, ad accogliere questo gesto di Gesù. Possiamo vedere questa preparazione anche in ciò che i discepoli dicono e fanno. Chiedono a Gesù dove vuole che preparino la Pasqua per mangiarla con loro. Ecco, potremmo chiedere anche noi nella preghiera al Signore dove vuoi che preparo la Pasqua per mangiarla con te. Non sarà tanto un luogo fisico, ma forse una zona della mia vita, una zona della mia esistenza dove forse faccio fatica anche a fare comunione con me stesso. Ecco lì possiamo preparare per il Signore e poi fidarci di quello che il Signore ci dice. I discepoli ascoltano, si fidano e vanno e trovano come Gesù ha detto. E poi quando sono a mensa i gesti di Gesù che riassumono tutta la sua vita, che sono diventati anche i gesti che possono riassumere la nostra. Vediamoli. Prendere, rendere grazie, spezzare, dare. Prendere, innanzitutto accogliere il dono. Potremmo anche dire accogliere già come dono la nostra vita, che non ce la diamo, la possiamo solamente accogliere. Poi rendere grazie. Ecco, non impossessarci di questo dono, ma metterci in relazione con il donatore, non chiuderci sui doni con paura, ma accoglierli con la mano aperta e saper alzare gli occhi verso il donatore, custodire e coltivare la relazione con lui. Poi spezzare. Questi gesti di Gesù sono stati compiuti anche durante la vita pubblica. In genere si chiamano la moltiplicazione dei pani, ma Gesù non moltiplica. Gesù semmai divide e condivide. Il pane si moltiplica perché viene spezzato. E infine dare, con mani che si aprono, mani che non si chiudono nel trattenere, ma che sono a loro volta capaci di donare. Ecco, chiediamo che questi gesti portino senso alla nostra vita in tutte le sue giornate. Faremmo così l'esperienza di un'assimilazione originale, dove non tanto il cibo diventa noi stessi, ma noi diventiamo come il pane che mangiamo. Buona preghiera.